Vi chiedo solo un like, l'iscrizione a campanella e il codice CRAX che trovate alla fine del negozio per il prossimo pass, il pass attuale eccetera. Vi faccio vedere, il record è stagionato, 6738, sono reduce da una vittoria su Maiali e una precedente sull'Avalun, 2.6 è quel momento. C'ho paura di prendere un palo in faccia, è incredibile, però concentrati, Spartacus, rompo io il ghiaccio, il cordomatore, la mazzetta dorata, tornato, easy. No, dovrebbe essere mirror, qua ci stava bene una fireball, qua ci stava bene una fireball, però c'ho paura che è fireball bait e allora esattamente tutti a destra congelati e ho fatto una gran difesa ma soprattutto sono stato miracolato nel non andare a tirare la fireball e posso già ripartire. Sono stato miracolato, regà, eh. Botta del domatore da paura, tutti a sinistra, miracolato Grax, miracolato Grax. Io ci metto pure un cannone perché c'ho veramente paura che questa me tascia pesantemente. Pulisci tutto, non si sa che deck c'ha questo, maiali strano, ma so counter perché è fireball bait. Spero solo non abbia l'estrattore, perché se c'è l'estrattore ci fa male, però se lo metto adesso sta modalmente in vantaggio. Lui in mano dovrebbe avere maiali e barbari, quindi... Ok, prendiamocela con calma. Colpi a sinistra, forse il moschettiere era meglio dall'altra parte, anche se lui... Non mi piace, però non posso tirare la fireball. Buona la sua difesa, perfetta. Allora, fermi, intanto questo lo famo da sciacquì e non te sbagli, si prende il doppio danno e stiamo a cannone. Ci metto un moschettiere, puliamo, non lasciare, quello colpisce e ok. Posso cilare un altro domatore, lui c'ha i barbari. Secondo me è un errore questo, però me ce butto perché se il domatore sguscia via faccio due hit. Una... Vabbè. Ci può pure stare. Log e chip damage. E ok. Ma non è che c'ha big spell lui, roba... Ah, vedi che ce l'ha la spell? Fireball, esatto. Colpisce a destra sti gatti, non mi interessa. Domatore subito. Lucia Log, Grax, ricordatelo, quindi è inutile mettere il congeleno. Perfetto, gli avrei regalato uno di Lysir. Quasi danno per noi, ma mi va bene. Occhio alla terremoto, Grax. Occhio alla Terry. Subito golem del ghiaccio. Subito Log. Subito Scheletrini. Mi sono preso un danno gratis. Ok, poteva andare peggio. È tosta, ragazzi. Sì, per fortuna ho messo il domatore. Bravo, Grax. Non posso neanche cambiare lane. Non posso fare niente. Devo stare solo attentissimo... ...a sto signorotto qua che mi vuole mettere... ...robba molto pesante. Va bene. Va bene. E adesso, ragazzi, devo solo fare questo... ...nella speranza che lui li metta lì. Va bene. Bravo, Moschettiere. Buona la hit. Buonissima la hit. Buonissima la hit. Buonerrima la hit, ragazzi. Buonerrima la hit. Importante è che fermo la Bandit. Poi il resto sti cavoli. Ok. Non ho il mana per fare Fireball Predict. Però ci posso andare comunque. Diciamo, non una meravigliosa giocata. Però quella è Fireballabile. Attenzione. Attenzione. Errore suo. Log. Regà, mi sto a sentire male, considerate. Sto letteralmente a sentire male. Perché se io faccio così e così... Una partita dal record. Una partita dal record. Mi sto sentendo male. Vi chiedo un like, l'iscrizione e una campanella. Siamo record. Ma una partita dal record storico. Mi stanno tremando le mani. Vi giuro, ragazzi. Superiamo il record di sempre. 6.770. Con un più 30 sarebbe un preciso 6.800. Ma già lo so che ci farà fare 6.799. Sono sicuro. Non questa. Non questa. Questa. Attenzione. Sono 6.8. In caso di vittoria non sarà mai una win. Cioè, ve lo dico proprio palesso. Non sarà mai una win. Se fosse stato più basso ci avrei creduto. Ci potrò pure... Lo sapevo, regà. Io lo sapevo. Però è bello comunque. È figo lo stesso. Lo sapevo. Me lo sono proprio scelto il Mastino. La partita per il record. Veloce per palla. Veloce per palla. Veloce per palla. Ok. A destra. Va bene. Va bene. Va bene. Certo, fare il record contro il Mastino sarebbe l'apoteosi del successo, ragazzi. Hit per noi. Log preciso. Peccato che devo sprecare il golem del ghiaccio e non mi piace questa cosa. Erano meglio sicuramente gli scheletrini. Te prego, bello mio. Dimmi che è la prima volta che giochi il Mastino. Te prego. Perdi la connessione. Te prego. Fatti tossare qualsiasi cosa ma fa mittare il record. Ti prego. Ti prego. Scheletrini. Lui andrà col Mastino. Pensavo il surrender, regà. Pensavo il surrender. È un deck molto strano il suo. È un deck molto strano il suo. Sprego il moschettiero sbagliato. Primo errore di Crax. Dovevo tirare il log. Dovevo tirare il log. Perché tirando il log stava a posto. Però posso provare a fare una cosa. Io non ho capito questo come gioca. So sincero. Non ho capito come gioca. Ci sto a capipoco proprio in generale. Però vabbè. Il bello è che la mongolfiera si ferma, ragazzi. Ragazzi. Ragà. Mi ha attivato la centrale, regà. Regà, questo qua è la prima volta che... A parte che un deck folle. Ma questa è la prima volta che lo giocavo, regà. Mi sto senti male. Mi sta venendo a piangere, regà. Mi giuro. Mi sta venendo a piangere. Però... La cosa più bella... Non voglio piangere, ragazzi. Non voglio piangere. Ma la cosa più bella in assoluto è che ho fatto le 6.8. Credo di aver fatto le 6.8. Contro il mastino con 2.6. Salve imprevisti, imprevistissimi. Pulisci tutto, Crax. No, 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 no. Quella si deve fermare, però, eh. Perderla in quel modo sarebbe stato crudelissimo. Ragazzi, 6.8. Scusate il momento finale. Un po' toccante. Me la so sentita proprio dentro. 6.8. 6.8. Cor 2.6. Considerando tutte le mie lacune nel giocare il deck, le mie mancanze. So scarso, l'ultimo intrattenitore. Creatore dei contenuti sulla faccia della terra. Però 6.8 con 2.6. Con una vittoria su un mastino lavico. 7.000 coppe. E probabilmente l'account l'ha dato al fratellino. E adesso, infatti, ci fa le 6.4. Però se trovava... Uh, l'ha fatto droppare a 7.000. 6.993. Quello di prima era un... 6.000... No, 7.065 coppe. Io vi giuro, ragazzi, mi sto sentendo male. Ma guarda il Grax quanto sta alto con sto 2.6. Guarda che robetta. Un attimo, perché la situazione è veramente lunga. Oh! Ma, seriously? Top 500. 499 scriptato. Però, sopra 500. Non succede, ma se succede... Ah, Italiano? Se la lascia il top. In magia il primo snipe del... Ok, è buono querpecca. Il primo snipe della storia su Clash Royale. Sarebbe assurdo. Questo qua è buono querpecca. Io ci metto un moschettiere perché poi andrò a difendere. Buona quella firepalla? Allora vado? Perché non ha acchiappato il moschettiere? Lui non ha preso il moschettiere. Toglio il mago zap instant. Non è buono querpecca, ma io ho fatto comunque un sacco di danni. Non è buono querpecca. Attenzione. Lo lasciamo sfogare esattamente qui. Lo lascio sfogare sulla destra. Buono quel elisir buttato. Non è buono quel pecca. Io il moschettiere non lo spreco. Lo ghettino. Oppure no, potrebbe avere il pecca. Domatore lo metto. Anche perché altrimenti avrei dovuto difendere. Ah, ho capito. C'ho paura della fulmine. Ho molta paura della fulmine. Qua andiamo a far fallare easy. Qui con gelo non dovrebbe caricare. E qui fermiamo. Forse potrò gestirla meglio. Dovevo gestirla meglio, ragazzi. Molto di più. E infatti lui mi va a sfondare la torre dall'altra parte. Mi sfonda letteralmente la torre. Perché l'ho giocata malissimo. Perché ho fatto entrare doppio danno del arciere magico. Dovevo tirare la fireball prima. Ora, con biondone e domatrice non so se so counter. Però i danni sono stati tanti. Sono stati tanti e ho difeso molto male. Questo lo lascio tornare indietro. Non so se lui ha già girato... Era buono quel pecca. Era buono quel pecca. Il mega problema è che io devo far wake upare prima lui. Non l'ho fatto neanche wake upare. Mi tocca tirare pure una fireball. Se no, non racconterò nulla. La difesa c'è stata. Ma lui c'è la domatrice. E io non c'ho la fireball per l'archero magico. Si può recuperare. Sono sicuro che si può recuperare in qualche modo. Però non è semplice. Togli subito quello. In questo modo c'è il cannone clean. Vabbè, qui ha fatto tornare addirittura indietro tutto. Riesco, penso a fermare la domatrice. Mamma mia, regala difesa. Mamma mia, regala difesa. Mamma mia, regala difesa. Non diventare invisibile. Ok. Domatore luce arpecca. Domatore lui è... Eh, non ce l'ha arpecca, no. Non so come passare, sinceramente. Non so assolutamente come passare. Adesso dovrei passare, però. Buona quella fireball. Non lo so se è buona quella fireball. Sono sincero, eh. Perché io qui posso tirare la fireball. Sì, che la tiro. Perché quello va giù easy. Ok. E questo me lo porto... Sulla parte di sinistra non dovrebbe avere la tasciata. Aveva la tasciata e ci godo pure. Va bene. Devo acchiappare qualcosa con la fireball. Eh, il pecca non desicuro. Il pecca non desicuro. Fermi. Destra, destra, destra. Ha sbagliato la fireball. Mi avrebbe fatto un botto di danni. Lui ha missato la fireball. Te prego, via il mago zap. Eh, la fireball mi serve sul mago zap, ragazzi. Se no non riesco. Ok, fallo tornare indietro. Cannone matta a sinistra. Non riesco a scappare, ragà. Non riesco a scappare. Però riesco a tirare la fireball. Fermi, eh. Fermi che riesca a tirare la fireball. Fermi. Sono matto. Sono matto. Sono mattissimo. Ho sbagliato la fireball. Non ho sbagliato la fireball. Log a Grax. Regà. Regà. Non ci credo. Ma che state a dire? Ma cosa state dicendo? Ma cosa dite? Ma non può essere vero. Non può essere reale tutto ciò. Butta la fireball difensiva a sti cavoli. È il record. Contro l'italiano. Un bacione enorme a Zabba Zuzugutte. Ma come ho fatto a chi appalma carcere? Voglio rivedere. Var, var. Subito. Tutti al var. Partite enorme. Non so se ero che ha. Hunter. Fermi. 6.800. Più. Tot coppe. Migliorato ulteriormente il record di sempre. Player da 7.400 coppe top 1000. Mi sembra di sì. Questa è la fireball. Attenzione. Mamma mia che fireball ragazzi. Non so come. Vabbè io fermo qua il video. Alla fine l'avete vista. Abbiamo superato il record di sempre. Vi chiedo un like. L'iscrizione alla campanella. Il codice Crax. Sto portando dei video gameplay mai portati nella mia vita. Vi porterò anche magari qualcosa di War. Perché parecchio non lo porto. Vi chiedo solo il like. Ripeto. L'iscrizione alla campanella. A meno di 3.000 iscritti. Siamo 1,68. Dategli gas. Codice Crax. Ciao.